Allora, questa è una delle strade forse più belle e più sottovalutate del Chianti, è quella che va da Gaiole a Monteluco, perché ci sono le antenne della televisione, Monteluco TV, non lo so se è per quello che si chiama Monteluco TV, ma comunque è Monteluco, praticamente è una delle strade che sale dal Chianti e finisce nel Val d'Arno, non è molto conosciuta, pochissimo, è pochissimo trafficata, io non ci ho mai incontrato nessuno e è di una bellezza incredibile, questi panorami a volte aperti, in altri momenti nel bosco, abbastanza sortuosa, buono, in fondo buono, ora magari siamo d'inverno, c'è un po' molliccio, addirittura qui c'è un po' di neve, però è veramente bellissima, secondo me è una delle scoperte che consente Motomappa, perché è un po' fuori dalle grandi direttrici e invece è veramente bella, 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 da qui si arriva per esempio a San Gusmè, si può arrivare fino a Montevarchi e è molto bella anche di là, però questo tratto, questo è veramente spettacolare, tutto ovviamente su Motomappa.